Lunedì 16 ottobre Il modo non uso viene dato in atteguazione per cui la situazione è in miglioramento Giornata finalmente serena anche per chi viaggia in treno dopo giorni di disagio soprattutto del napoletano con corse soppresse, limitazioni sulle linee e allaganti in alcune stazioni come avvenuto ieri dalla stazione di Scafati sulla linea Napoli-Poggio Marino della Circomeso Villano Violenta lite tra malochini a Pogigliano d'Arco, i carabinieri nucleo operativo e l'aria mobile di Castello e Licisterna sono intervenuti in urgenza in via Roma dove era stata segnalata una lite in abitazione I militari hanno accertato che poco prima al culmine di discussioni sorte per difficoltà di convivenza la gestione e la pulizia della casa Un malochino di 27 anni aveva aggredito un connazionale di 20 anni colpendo l'alcol con i coggi di vento di una bottiglia La vittima è stata portata alla clinica Villa di Sioni di Acerra e ricoverata a una profonda ferita e avrà per un periodo tra i 20 e i 20 giorni ma non è in pericolo di vita L'uomo veloci dice che il 27enne è stato individuato in via nazionale delle Puglie mentre si allontanava dalla zona, tratto in arresto per lesioni personali aggravate e stato posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari per circa 700 mila euro nei confronti di 13 indagati Gli indagati orbitanti dell'area dell'agro nocerino sardese sono ritenuti responsabili a valutitolo del reato di falso e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in quanto hanno illecitamente percepito contributi gestiti dall'agenzia denominata In Italia S.P.A. e finalizzati a favorire l'insedimento nel mondo del lavoro di persone prive di occupazione Gli indagati, avvalendo su due società riconducibili a due coniugi di Angri, hanno richiesto e ottenuto pubblici sussidi producendo alle interrogatorie fatture per l'acquisto di beni inesistenti Gli indagati, i carabinieri, i carabinieri, i carabinieri hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Salvatore Rispoli, trentenne, già noto alle forze del logere per reati contro il patrimonio All'interno della sua abitazione i militari dell'Ama hanno rinvenuto 1.070 pacchetti di sigarette estere di varie marche per 21,4 kg e 1.260 pacchetti di tabacchi nazionali pari a 25 kg privi di Bollino nel monopolio di Stato. L'avestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Devono rispondere di da pita per soli 2 euro, derivati accanto alla cassa che non riuscivano ad aprire. E' finito male il colpo organizzato da Cosimo Milanese, 25 anni e Marco Maglio, 20 anni, a Campania, nel Salio Pitano. Ieri sera sono entrati in un negozio di casaligni con il volto coperto da un cappuccio e dalla filma. E con una pistola hanno minacciato il cassiere tentando di portare via l'incasso della giornata. Il personale del negozio è fuggito sul retro, chiudendosi in uno stanzino e avvisando i carabinieri. Nel frattempo i due hanno cercato, senza riuscirci, di forzare la cassa e poi hanno deciso di fuggire. Lungo la strada sono stati intercettati i carabinieri e arrestati. La pistola si è rivelata un'arma giocattolo viva del tappo russo. Visionando i filmati del negozio, i mitrai dell'arma si sono accorti che comunque uno dei due rapinatori aveva preso e intascato appena due euro che erano stancherano sul bancone della cassa. E questo ha mutato il reato contestato da tentata rapina a rapina, aggravando la loro opposizione. Si parla di apparizione prodigiosa a ginestra degli schiavoni piccolo centro del Beneventano, dove i fedeli scolgono il volto di Sampio sul vecchio porto del legno di un'abitazione del centro storico, pochi metri dalla stauta del frate di Pietrecina. La notizia si diffusa rapidamente sia in paese che nei centri limitrofi del fortone. Il posto è divenuto subito un centro di benevinaggio, intanto il sindaco Zaccadia Spina ha dovuto far tranzernare lo spazio antistante all'abitazione. Lo stesso sindaco sostiene, stando vicino al portone non si nota nulla, ma basta allontanarsi ed ecco che appare con idirizza il punto di Sampio. No comment e grande cautela sulla vicenda da parte delle autorità ecclesiastiche. E nella questa è l'ottima notizia. Grazie per la potesia di attenzione. La terza settimana di Youtube. Finito.